Ciao ragazzi, come state? Vi ricordo che dal lunedì 30 maggio alle ore 18 ci sarà per la primissima volta il rilascio sul sito di Level Up del nuovo gusto del gaming booster Summer Edition, gusto fragola e anguria. Che oltretutto ho anche già provato freschissimo e buonissimo e vi ricordo che con ogni porzione di Level Up avete la carica giusta per le vostre sessioni di gaming ed oltretutto ogni porzione contiene pochissimi zuccheri ma soprattutto lo pagate meno di un euro a porzione. Quindi voglio provare un po' Tien con voi, non è un ciofecone, attenzione non è proprio ciofeca totale perché qualcosa di carino ce l'ha, c'ha la verde che è carina, la verde infligge flash e per due volte può pescare la special move quindi è buonissimo perché voi potete flashare il nemico col taioken e allo stesso tempo gli potete pure fare il triraggio insomma e fargli un pochino di dannetto. Anche con la main si pesca la blu, questo è ottimo, il restore del 30%, 30% di special move damage e 20% di danno inflitto, pensavo ci fosse qualcosa per gli alleati, non so perché avevo letto una cosa del genere. Nullifichiamo l'elemento a sfavore quindi potremmo tankare tra virgolette per 5 counts e più 10% di danno inflitto, di blast damage inflitto per 5 volte quindi è molto importante che i nostri alleati becchino un pochino di botticelle. Ah vince il clash E intanto io mi sto buffando tien così, così facendo Mi sono buffato il tiennozzo, grazie arrivo subito Arrivo subito Arrivo subito Arrivo subito Eeeh ti è nozzo Ti è nozzo che sono sti danni Poi ve la spiego eh questa mossa Poi ve la spiego Poi se volete ve la spiego Iiii 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 Oh! Avete visto che bei dannetti che ha fatto tienne e in più Ciii Entro Addio Endurance Ciao une Oh no Lato vedete la verità Eh paragonatele ai danni di vegeta guardate qui Tienne li aveva fatti su Gohan quei danni Mirai Gohan Vabbè che era a stelle basse attenzione Eh Eh dai Bravo Tien Realissimo Intanto mi buffi Tienne Però che danni mi sta facendo Fai la Fai la Fai la Oh, 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 fammi, fammi andare per favore, fammi andare, ma roto la blue, vabbè. Bello! Grande Vegeta! Grande Giove. Uno. Pezzo di sterco. Pezzo di sterco. Eh, questo doppio switch che ho fatto è stato però triste. No! Cavolo! Quelle carte che mi ha rotto. Vado. Eh, Vege però, i danni, i danni, i danni, i danni li lasci a casa, Vege lasci i danni a casa così, bro, mannaggia. Tien, fai danni proprio 3.000 volte a te. Io ci provo con la cosa che stanno fermi, con quella verde, raga. Le provo. Hai. 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 Vai Mannaggia cazzo Perché non te lo porti a casa Se lo porta a casa lo stesso ragazzi Sei un folle che non l'ha trasformato Merdo Ok Ok quanti danni però Quanti cavolo di danni Vi posso dire una cosa A 14 stelle Tien l'avrebbe shottato Probabilmente quel Vegeta Ragazzi non siamo ancora a 14 stelle Va detto Quindi Quindi attenzione Allora se abbiamo la possibilità Eccolo qui perfetto Rising Rush E signori miei Noi voliamo eh Voliamo si Voliamo si DRR Vai vai Tien Bravo mi sta piacendo Mi sta piacendo Mi sta piacendo Sì Tien Sì Mi sta piacendo Dai Mi sta piacendo Mi sta piacendo Vai Tien Vai 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 Squadra che vince Non si cambia Eh lagga Cercando di capirci qualcosa Mi sta piacendo Mi sta piacendo Mi sta piacendo Mi sta piacendo Ma benissimo Capito da Rising Rush Benissimo Esatto No cazzi ti ringrazio Lo so Lo so Conviene farlo Tien Raga conviene farli sempre Sti personaggi Non ce l'ho più Non ce l'ho più l'out di Goku Vero Tieti guarda Tieti guarda Tien Che te combino Vero Tieti vai vai Tieti Vai 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 E' un naggio che aveva Poco Mardateo E vado pure no E vado pure come lo stronzo Poi lo metto Ma perché? Perché? Mamma che botte Vabbè sta partita è bella che è finita Già bella che è finita Oltre Noi Nesta noire Non capisce Non capisce C'è un passaggio Nesta non capisce Non capisce Non capisce Non capisce Non capisce Poi Donna sta ulti quanto tempo ci sta mettendo a scendere Non scende È ovvio che me la devo rompere Normalissimo che me la vado a rompere poi Non scende No no non ti lancia per favore non ti lancia Non ce la fa Troppo lenta questa Troppo lenta Ancora delle pull Ancora 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 delle puoi Ancora delle puoi Ancora delle puoi